Ciao, ma buongiorno, come stai? Ascolta, io oggi sono a Livigno con Giorgio Rocca Ci veniva a fare un paio di viste insieme Naturalmente non stare in pensiero, non preoccuparti Facciamo due viste a spazzaneve tanto, Giorgio E' uno che va piano, poi mi conosci tanto Non so il tipo che fa cose estreme Un abbraccio Facciamo un passo indietro Sin da piccolo, sin da quando ho scoperto YouTube Sono sempre stato in fissa con i video dei rischi Qualcuno della casa si starà chiedendo Ma che cos'è l'eliski? L'eliski, in poche parole, è una pratica dello sci free ride Quindi dello sci fuori pista Che consente di sedere sulle montagne direttamente con un elicottero E da lì, con gli sci ai piedi, godersi questa infinita vallata di neve fresca Diciamo che è un altro modo di godersi la montagna E in questo video vi racconto la mia esperienza E' una situazione super incredibile E' normale Oggi gran giornata, ad esempio Mi sembrava un po' così, invece Vediamo bene C'è tutto, ciao Eccoci qua Chi sei? Siamo Sei pronto? Trezzi Vai Belli larghi 120 per il fuori pista Facciamo una certa ansietta Buongiorno Ciao 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 Tudor Adesso facciamo un briefing Ci spiegherò un po' di distruzione, un po' di regole E' un po' di distruzione E' Arva Serve altro o vado a prendere? Cos'è l'Arva? Significa proprio che non sa nulla di questa roba qua Arva sarebbe apparecchio per la ricerca dispersa tra volte e due E' un trasmettitore con tre antenne che trasmette un segnale e se dovesse succedere qualcosa Robo in pochi secondi, in pochi minuti a distanza magari E vengo a due metri, un metro e mezzo da terra E' un po' di distruzione Abbiamo un supero di 2.000 metri Se si è di sopra le nuove Qua ragazzi è incredibile Questa è una delle ultime sciate di questa mia stagione Ed è probabilmente la più bella in assoluto Abbiamo beccato una strada incredibile ragazzi Per di più Sì, chiudiamo la stagione con un'inquilibria e gita di nevi ski. Camminate sempre di fronte all'incontro di fianco alla cesta, mai dietro a questa linea qua. Si sale, salite prima voi, io sono l'ultimo a salire. Al contrario, quando dobbiamo fare nel parco, esco prima io, tolgo gli usciti dalla cesta e poi uscite voi uno alla volta. Guarda che ansia! Wow! Che c'è svolta! Bellissimo! Wow! Adesso attiviamo l'ABS, chiamato Chat Force. È uno zaino che praticamente indossiamo, se dovesse succedere qualcosa si tira la manetta e si gonfiano due palloni che ci fanno stare a galla. Piacciando gli scapponi. Adesso ci dimentichiamo sul stile. Prima esperienza negli ski. Dai così, viva la vita! Wow! 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 una neve così bella in vita mia bellissimo voglio dei feedback dal campione come scio si? si è meglio qua che in pista facciamo un altro giro dove andiamo adesso? andiamo seconda cima senza nome poi usciamo dalla vallaccia è una valle parallela a questa andiamo all'alpino andiamo alla marcia altissima quando siamo alti qua? siamo più o meno tre no 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 Quando mi avvicino ai vero 50, cioè 50 centimetri, lei continuerà a fare un suono continuo, costante. Qui sento subito che c'è qualcosa di più soffice, di più molle, può essere uno zaino o comunque una parte del corpo della persona. Lascio la sonda in quel posto, monto la mia pala e inizio lo scavo. Lo sposterò un mezzo metro a valle e inizio a scavare. E a quel punto liberate le vie aeree, libero completamente e lo lascio lì in quella posizione. Avrò già chiamato il 118 che adesso è 112 come numero, arriva e poi ci pensano loro. Diciamo che con le statistiche nostre entro i 15 minuti veramente il 90% delle persone vengono salvate. Più passano i minuti e più diventa veramente difficile trovare vivo il compagno. Per quello che è molto importante avere il materiale di autosocorso e saperlo usare. Perché comunque noi siamo quelli che possiamo salvare la vita ai nostri compagni e ai nostri clienti. Assolutamente. Per questo tipo è fondamentale anche quando si fanno queste gite andare sempre con qualcuno di alpina del posto. Quindi mai andare da soli, mai dire che figata vado per i cassi miei perché è una cosa più pericolosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi non ho preso neanche un albero, miracolo. Perché non c'erano, se no figurati. C'è un sacco di gente che mi dice sempre, ah no, per fare le cose fighe, per forza andare all'estero, in Canada, in Norvegia o in Giappone. Ma la verità ragazzi è che l'Italia veramente ci offre di tutto. Continuerò per sempre vivi ragazzi che viviamo veramente nel paese più bello del mondo. Poi logico, magari funziona male, però ragazzi quello che c'è in Italia, quello che potete trovare magari nelle Alpi, qua all'Ivigno, non so se potete trovare in Canada o in Giappone. Siete sempre fieri del vostro paese ragazzi perché ovviamente è il migliore. Potenti. Tempo di magna. Allora, questi sono tartare di tonno, tartare di spada, di tonno e di branzino, gamberi Sicilia, scampi e ostriche, della Normandia. E questo è il premio per non essere mai cascato oggi. Ciao. Grazie mille. Tu mi hai regato veramente il weekend più figo della mia vita. Mi battito. A voglia. Grazie mille. Continua così. Ciao grande. Ci vediamo. Preparati per il Montemianco. A voglia. Preparati per il Montemianco. Buon. 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 Grazie a tutti.